nuovo appuntamento con channel city e oggi incontriamo giuseppe volta responsabile del commentato tecnico di nav lab una realtà gol partner di microsoft nella nav lab ha realizzato una soluzione che si basa sugli erpi dai microsoft dynamics business central che intende accompagnare i clienti nei percorsi di trasformazione digitale a un target pmi tipico del nostro territorio italiano quindi giuseppe partirei prima di entrare nel vivo e raccontare la soluzione nel dirci chi è nav lab questo partner di microsoft nav lab è un consorzio sostanzialmente un consorzio di aziende che operano nel settore degli erpi cioè di software gestionali siamo uno dei principali partner italiani per le soluzioni microsoft e siamo presenti su tutto il territorio nazionale il nostro motto è la forza dell'esperienza condivisa la nostra collaborazione è sia commerciale che tecnica soprattutto tecnica mi permetto di dire è una è una partnership molto solida che dura da più di 15 anni le nostre soluzioni sono basate appunto su microsoft dynamics business central il prodotto che precedentemente era noto come nav o nav vision l'offerta che nav lab propone al mercato si chiama tempo zero cloud vuole come abbiamo detto accompagnare le aziende clienti nei loro percorsi di trasformazione digitale diciamo un nome interessante tempo zero cloud una combinazione direi molto attuale quindi mi piacerebbe capire cosa sottende questo nome di questa offerta e in particolare come si caratterizza tempo zero è un'app ovvero una soluzione che si aggiunge a microsoft dynamics business central rendendolo più completo soprattutto più adatto alle aziende italiane in un processo impegnativo come l'attivazione di un sistema erp tempo zero è lo strumento che aiuta a partire più in fretta da qui il nome e meglio ecco mi sono perché scegliere un'offerta come quella proposta da voi tempo zero cloud io credo che le aziende italiane dovrebbero scegliere tempo zero cloud perché è il complemento perfetto per una soluzione internazionale a leader di mercato come microsoft dynamics business central tempo zero cloud è un'app certificata microsoft viene costantemente aggiornata per essere compatibile con la versione cloud di business central e perché dietro tempo zero c'è nav lab che è un partner affidabile con una presenza stabile sul mercato italiano da lungo tempo in sostanza tempo zero è una scelta di sicurezza sappiamo bene che i partner affiancano il vendor nel diciamo accompagnare lo abbiamo più volte detto i clienti nei loro processi di trasformazione nei loro processi evolutivi dei loro sistemi in it mi piacerebbe capire quali sono i servizi che voi mettete a disposizione dei clienti nav lab accompagna i suoi clienti in tutto il processo di gestione degli erpi quindi installazione configurazione personalizzazione consulenza formazione assistenza interfacciamento con altre applicazioni evoluzione del sistema ci proponiamo con un partner globale per la gestione della soluzione erpi l'offerta erpi applicativa di microsoft è un'offerta molto ampia ecco mi piacerebbe capire come si integra alla vostra soluzione con tutto il resto dell'offerta microsoft beh uno degli aspetti più interessanti della soluzione business central più tempo zero cloud è proprio quello di essere inserito in un sistema complessivo di soluzioni microsoft che comprendono le soluzioni office che tutti conosciamo da tempo ma anche la gestione delle vendite cioè crm gli strumenti di collaborazione come teams che è stato fondamentale in questo periodo in cui tele lavoro esploso la business intelligence con power bi insomma chi sceglie tempo zero sa che per ogni sua esigenza attuale e anche futura troverà sempre una soluzione del mondo microsoft ben integrata e tecnologicamente avanzata quali next step quali possono essere le nuove frontiere innovative che intendete abbracciare voi come nav lab diciamo in tandem con microsoft allora non cito il passaggio al cloud perché ormai è un dato di fatto si tratta di accompagnare i clienti in un percorso che già tracciato e gli strumenti tecnici sono pronti credo invece che l'integrazione dell'ierp con tutte le altre applicazioni sia il terreno di sviluppo dei prossimi anni l'idea è di annullare i confini fra le diverse applicazioni per fornire all'utente tutto ciò che gli serve senza che lui debba preoccuparsi di quale software dietro le quinte gli fornisce il servizio come nav lab arricchiremo costantemente tempo zero cloud in modo che le richieste di digitalizzazione delle aziende trovino sempre una risposta nelle soluzioni applicative tempo zero ringrazio giuseppe volta per averci introdotto in questa in questa realtà innovativa quale nav lab questo partner di microsoft che ha costruito tutta e ha messo a fattore comune le competenze di più software house sul mondo microsoft di averci presentato in profondità questa soluzione tempo zero cloud per accompagnare le aziende in particolare le pmi nei loro processi di digitalizzazione grazie mille giuseppe grazie a voi è stato un piacere grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi